Alla sede del Consiglio di Stato c'è il nostro Matteo Parlato, eccolo qui. Matteo, che è stato deciso? Buonasera, il Consiglio di Stato si è pronunciato e ha definito il ricorso del PDL improcedibile. Praticamente la lista Polverini non avrà il simbolo del PDL, non potrà passare. Questo, fra dieci minuti circa, avremo le motivazioni scritte, i giudici ce le daranno. Però possiamo dire che parlando in maniera non ufficiale con gli avvocati fuori dall'aula, questa decisione sarebbe scaturita dal fatto che ci sono stati nuovi provvedimenti che hanno cambiato l'assetto giuridico della cosa, per cui in questo momento i giudici hanno deciso di non pronunciarsi, di rendere improcedibile questo ricorso che è stato fatto. Il ricorso che ricordiamo è stato fatto dall'IDV, dal Movimento dei Valori, da Rifondazione e dalla Sinistra e Libertà di Vendola. Fra dieci minuti potrò darvi, avendo le motivazioni in mano, potrò darvi circostanziare meglio i motivi che hanno portato i giudici a questa decisione. Per cui il Consiglio di Stato, che è l'organo di appello del Tribunale Amministrativo Regionale, che aveva già sancito l'esclusione per mancanza di documenti, giusto, della lista del PDL a Roma per le regionali. E anche perché tutto il faldone che doveva essere consegnato per la lista elettorale è rimasto per due ore e mezzo non custodito. Quindi i giudici non potevano non escludere che in quel lastro di tempo fossero state fatte delle modifiche che non sono previste. Ovviamente. Allora, oggi c'è stata, Matteo, l'altra notizia, quella invece del Consiglio di Stato, che su Milano, anche lì c'era stata la problematica della lista Formigoni, il TAR in quel caso aveva ammesso la lista, lì qual era stata la decisione del Consiglio di Stato? Il Consiglio di Stato aveva dato ragione al TAR, cioè ha rigettato l'appello circa la lista Lombardia, la lista di Formigoni di cui parlavi prima, e ha rigettato l'appello che era stato fatto da rifondazione e praticamente dando, appunto, mi ripeto, ragione al TAR, quindi la lista Lombardia passa. Quindi in Lombardia la vicenda si è chiusa positivamente per il PDL, viceversa nel Lazio gli elettori nella circoscrizione di Roma naturalmente non troveranno sulla scheda elettorale il simbolo del PDL. Però, sottolineiamolo insieme Matteo, il PDL partecipa comunque a queste elezioni a Roma perché c'è il listino della Polverini, giusto? Sì, 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 sicuramente, ma poi guarda, ora veramente, diciamo, sempre parlano gli avvocati, secondo gli avvocati, diciamo, questa odissea di questa lista non finisce qua, secondo loro ci saranno ancora altre, insomma, i giudici dovranno ancora, diciamo, pronunciarsi riguardo questo pasticcio che ricordiamo che è cominciato il 27 febbraio, quando c'è stata la consegna delle liste. Praticamente è tutto informale, però... Matteo, la storia era un po', come dire, stranota, peraltro un po' paradossale, perché il presentatore di questa lista, il delegato del PDL, aveva detto che si era dovuto allontanare in una prima fase perché era andato a mangiarsi un panino, poi successivamente c'era stata un'altra ricostruzione che era quella che gli era stato impedito dai radicali, così aveva detto anche il Presidente del Consiglio, peraltro, vero? Però, su questo, quando il TAR si è pronunciato, avvalendosi anche, diciamo, come testimonianza del verbale dei Carabinieri che, diciamo, dava la versione che in quel momento la persona non era presente. Matteo, allora, questa decisione di pochi minuti fa del Consiglio di Stato, uno, formalmente, dovrebbe chiudere la querella perché il Consiglio di Stato poi è inappellabile, l'ultimo organo, insomma, per la parte amministrativa, insomma, l'iter amministrativo si chiude qui, poi vedremo, insomma, se si tornerà sul giudice ordinario, cioè sul giudice del Tribunale che dovrà eventualmente prendere in esame eventuali altri ricorsi del PDL. Però, quello che ti volevo chiedere, in qualche modo il Consiglio di Stato, ora capiremo le motivazioni di questa improcedibilità, in qualche modo il Consiglio di Stato, come dire, ha dato ragione, anche se non si è espresso, dichiarandolo improcedibile, quel ricorso, in qualche modo però sembra che dia ragione al Tribunale amministrativo regionale. Eh, beh, sì, quantomeno non lo... sicuramente... Non lo smentisce. Non lo smentisce. Ora aspettiamo che escono le motivazioni, però certamente, diciamo, non ha espresso un'opinione che... cioè, non ha espresso opinione, semplicemente. Ecco, ha dichiarato soltanto non procedibile quel ricorso. Noi siamo in attesa di proporvi, stiamo cercando degli esponenti politici per proporvi a caldo le reazioni. Però, Matteo, il Presidente del Consiglio era stato molto duro su questa vicenda, aveva parlato di una macchinazione, di un procedimento pensato anche dai magistrati, e qui c'era stata la reazione molto dura della Sollezione Nazionale dei Magistrati, per impedire la presenza della lista a Roma. Oggi, peraltro, a Roma c'è stata la grande manifestazione del centrosinistra per chiedere l'applicazione delle regole. La ricordiamo insieme? Sì, pronto? Ti dicevo che oggi c'è stata anche la manifestazione del popolo viola e del centrosinistra a Roma, a Piazza del Popolo, per chiedere l'applicazione delle regole, e quindi per, come dire, far rispettare la procedura. Certo, sì, però, sì, io ho saputo, perché ho seguito attraverso Rai News 24, la manifestazione, però capisci che nel contempo io ero qui che cercavo di avere informazioni. Ovviamente, ovviamente. Devo ammettere di essere un po' impreparato sulla manifestazione del popolo. Assolutamente, poi noi abbiamo proposto ai nostri ascoltatori ampi stralci di quella manifestazione, come faremo peraltro il 20 con la manifestazione del PDL che ci sarà appunto, l'hanno già organizzata per sabato prossimo. Io ringrazio il nostro Matteo Parlato.